Buongiorno Io ho sentito la sua eccellente Ma la mia regola è mio compagno Ho parlato la bellezza di due ore Hai capito? Due ore parlate più forte Non ho mai potuto sentire Ho parlato come dei mostri Hai capito? Come dei mostri E che ho detto? Ah, dica 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 E' una lenta Con lo steno giù Una bestia che non sape' quella che fa Si è una moglie che è una santa Ma questo non sa me Perchè è un porco vizioso Non basta più di un maricoso Ma vai a schia, ma tu fai usciuto Dalla cammina il mio ministro Non caglisci niente, io si dovevo parlato Ah si? E io ho detto pure che sei un brevuto E' una santa santa, prendi i schiaffi La guardia perchè si, non te l'hai fatto fraccio Ma tu gli pensi che non vuoi? Quello che mi hai fatto bucolino fa? Ma tu, tu fai Quello che fai, tu prendi i schiaffi Nei guardia e faccio i guardi Ma tu fai un guaglietto, no? E' un'avvocata che sempre E' un guagliato E' un guagliato E invece, non lo ha detto più E' un giurastico che mi fosse asciutto libero E' un giurastico che mi fosse asciutto libero E invece un giurastico scoperto E' un giurastico scoperto Tu, tua eccellenza mia a te E' che dopo passando delle grazie Non ti fa più grazie a nessuno E che impunto, la tu E' una tendenza giusta Perchè la severità per lo straggio alla forza pubblica E' necessaria E' un giurastico E' un giurastico E' un giurastico Dunque, siccome il mandato di cattura Ti sarebbe venuto qui accompagnare dai carabinieri E tua moglie avrebbe saputo tutto Ho tenuto che stasera al massimo entrono il nome e ti sarei presentato tu Spontaneamente E' un giurastico 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 No Na 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 Ja Eri, Eri, che d' geehrlo? È già e riprenditi vicino a De Mostre e poi come faccio? che ci ha fatto? che ci ha fatto? ma faccio una cosa a tua moglie mia e non lo stesso con me ma come faccio? e poi si tratta in un mese che mi ricordo? che mi ricordo? ma aspetta aspetta voglio fare una tutta lì ora accadde un amico e ci potrà sicuramente aiutare e che cugino cancellete e papà non mi fa nannuà e papà non mi fa nannuà ti preoccupa? ma non mi fa nannuà